La politica d'alba è solo proloco? Probabilmente no, anche se in questo momento storico nella cittadina costiera, molte di queste considerazioni ruotano attorno alla radiazione della vecchia proloco, la nascita al momento un po' particolare, un po' tormentata della nuova associazione, ma anche ovviamente la fase di avvicinamento al congresso locale del Partito Democratico, sezione commissariata da tempo. Questo è il tema del 45 giri odierno e diamo il benvenuto al nostro ospite che è Nicolino Colonnelli, capogruppo di ignoranza di Alba in Comune, appunto nella spiaggia d'Argento. Nella premessa che facevamo, in questo momento storico Alba di Atica sembra essere solo proloco, un po' riduttivo, no? Beh, penso di sì. Tant'è vero che venerdì scorso abbiamo avuto un consiglio comunale nel quale io ho fatto un'interrogazione proprio rispetto a questa problematica, ma con un preambolo. Dicendo ai miei colleghi consiglieri, ai cittadini presenti, spero che sia l'ultima volta che parliamo di questa cosa perché in questo luogo istituzionale bisognerebbe affrontare problemi ben più seri che possono essere l'ambiente, che possono essere la scuola, la problematica del lavoro, il turismo, tutte quelle problematiche di cui ogni cittadino giornalmente sente parlare e per i quali i cittadini sono chiamati in causa. Quindi sarebbe riduttivo pensare di fare la politica e parlare solo della proloco. Però, come ho avuto modo appunto di dire in quel preambolo, purtroppo in un anno e mezzo ad Alba di Atica, in consiglio comunale, di progetti, di programmi seri, io non ne ho visti, se non semplicemente prese d'atto o cose tecniche che potrebbe fare un qualsiasi funzionario, non ci sarebbe bisogno del consiglio comunale. Poi dopo, nello specifico, toccheremo alcune delle tematiche che investono la macchina amministrativa. Tornando al concetto legato al proloco, ovviamente c'è la vicenda della vecchia associazione, è cancellata dagli albi, ma insomma è notizia delle ultime ore che c'è un ricorso al TAR quindi che potrebbe comunque congelare a nascere qualsiasi altra associazione. In realtà, da parte delle minoranze c'è soprattutto questa richiesta al sindaco di trasparenza. Cioè la proloco, come viene definito, non è un'associazione qualunque. E quindi di riflesso, insomma, sono stati fatti dei percorsi nei quali poi il sindaco non poteva non sapere. Questa è l'accusa principale che muovete, no? Sì, ma infatti tutta questa situazione ha avuto un eco anche superiore a quello che doveva avere ma solo ed esclusivamente per responsabilità del sindaco. Io quando ho sollecitato il sindaco, ho detto sindaco, guardi che non sappiamo come andrà a finire la storia della vecchia proloco. se sarà cancellata, cosa che poi è accaduta in data 30 ottobre, se ci sarà un ricorso, cosa che poi successivamente è accaduto. Però, in attesa che noi abbiamo chiarimenti di quale sarà la sorte della vecchia proloco, per problematiche che attengono loro e l'UMPLI, non riguarda me, non riguarda nessun cittadino di Alba. Dico, facciamo in modo che se deve nascere, perché già c'erano dei rumors di qualcuno che si stava attivando per fare una proloco che sostituisse quella. Allora, visto e considerato che la proloco non è quello che mi dice il sindaco in consiglio, consigliere, io non posso entrare nel merito della libera aggregazione dei cittadini nella costituzione di un'associazione. Io, siccome tu mi conosci, sono un uomo di sport, ho fondato l'Alba Basket ad Alba Triatica, ma ci sta l'associazione di danza, c'è l'associazione bocciofila, c'è quella di calcio, c'è quella di ciclismo, sono tante associazioni che hanno uno scopo diverso, anche se complementare, magari con la proloco potrebbero essere complementare. La proloco non è un'associazione come le altre, anche perché la provincia non chiederebbe altrimenti una lettera e o attestato del sindaco che accompagni la richiesta di iscrizione. La proloco ha nelle sue finalità, la parola stessa lo dice, proloco, per il luogo, per il paese, per la città. Nelle finalità della proloco c'è proprio una cosa che dovrebbe essere il motore portante della promozione turistica del paese. La proloco è un organismo che, lavorando fianco a fianco, gomito a gomito, con l'amministrazione e con gli assessorati di riferimento, deve fare in modo che emerga sempre di più l'aspetto positivo di un paese e portarlo più in alto possibile. Quindi non è la stessa cosa. Tu, amministratore, non puoi far finta che questa cosa la puoi delegare semplicemente ad altri. La deleghi, ma dopo aver verificato che all'interno di questa proloco ci siano tutte le associazioni, tutti i rappresentanti di categoria, i cittadini che possono mettere in gioco la loro creatività, la loro energia e far sì che sia un organismo che possa portare dei risultati. Per chiudere questo argomento, poi passiamo ad alto. È stata lanciata anche una sorta di provocazione, facciamo anche noi, da parte di alcuni consigli di minoranza, è una proloco, cioè anche noi ci muoviamo in questa direzione, visto il percorso che ha preso questa. Sì, cioè o meglio, è un po' diverso. Certo, questa è soprattutto una forzatura, la mia provocazione. Diciamo che è una provocazione per far muovere una situazione che non si… viveva una situazione… c'era uno status quo e non riuscivo ad andare avanti. Io continuavo a invitare il sindaco a farsi garante di un percorso costitutivo, chiaro, trasparente, lineare e il sindaco continuava a non rispondermi o a rispondermi pampe e frasche, insomma. Allora, che cosa è accaduto? Io ho detto al sindaco semplicemente questo, sindaco, per evitare strumentalizzazioni, fatti garante di un percorso lineare nella Costituzione di questo, fai in modo che partecipino tutti. Come si fa a fare in modo che partecipino tutti? Si fa un avviso pubblico, si fa pubblicità sul sito del Comune, si fanno dei manifesti, si trovano tutte le modalità per far sì che arrivi a più persone possibili, anche usando i social network, convochi un'assemblea presso la sede del Consiglio Comunale, o la sala convegni, il sindaco si presenta e dice, signori, sono contento che siete intervenuti così numerosi, spero che voi lavoriate bene, io adesso tolgo il disturbo perché il lavoro lo fate voi, mi chiamerete quando siete giunti a conclusione, verificherò insieme al mio gruppo consigliare che siano stati seguiti tutti i percorsi giusti necessari, vi faccio l'attestato e andate ad iscrivervi. Ma guardi, io ero assessore nel 1996 alle attività produttive e commercio del Comune di Alba, essendo nato e cresciuto nel settore pelletteria, ebbi l'idea di costituire l'associazione dei pellettieri. A 40 anni dal primo insediamento di pelletteria ad Alba ebbi questa idea. Cosa feci? Né più né meno. Invitai tutti gli operatori dentro la sala consigliare, era piena così, non so se ti ricordi Luca perché mi sa che all'epoca scrivevi per un altro giornale, era pieno pieno così. Non feci né più né meno che ringraziare le persone di essere intervenuti, feci un intervento diciamo di benvenuto, dissi le motivazioni che mi avevano spinto a fare questa riunione, dopodiché salutai, li lasciai lì e a distanza di nemmeno 20 giorni nacque la prima associazione pellettieri dell'Adriatico, dove io non mi sono nemmeno iscritto come pellettiere, proprio perché non volevo che ci fosse un conflitto di interessi. Io l'avevo solo promossa, questo è quello che devi fare come politico, io al sindaco non avevo chiesto la luna, avevo chiesto solo di fare questo, non l'ha fatto, non l'ha fatto perché sono convinto e ho fondati motivi di credere, anche se lei dichiarava il suo gruppo consigliare fuori che non era al corrente di ciò che stava accadendo, lei sapeva esattamente ciò che stava accadendo. e se sapeva che il 7-11 la nuova prologo ha presentato la documentazione in provincia e il 12-11 lei mi nega di essere al corrente di qualcosa, in America ci sarebbe l'impeachment per il Presidente, non so. Certo, questo argomento l'abbiamo trattato. Dicevo esatto, sono arrivato alla provocazione per dire signore, ma una provocazione che comunque avrà una conseguenza se io non ho risposte e ho trovato sponda anche in alcuni della maggioranza oltre che in altri della minoranza. Convocheremo noi un convegno pubblico, inviteremo le persone, daremo in là la costituzione di una prologo, dopodiché arriveranno due richieste a te, il sindaco quale sposerà? E io le ho detto questo, sindaco, lei si sta mettendo in una situazione molto antipatica per lei, ma non ce l'ho messa io, ci si sta mettendo da sola. E lei pare che abbia capito in consiglio comunale, abbia fatto un passo indietro, penso che l'abbiate sentito, e ha detto ci penso su, fatemi dormire su, la notte porta consiglio, io ho detto sindaco domattina sono pronto per il caffè, probabilmente, magari aspetto qualche giorno, ma spero che si arrivi comunque a una conclusione di questo tipo. Certo, sotto questo aspetto vedremo insomma gli sviluppi. Cambiamo argomenti, cambiamo scenario, diciamo nella premessa, la vediamo che non può essere ridotto semplicemente una prologo, ci sono una serie di dinamiche e di tematiche anche di emergenza, anche l'ultima è stata, insomma è andata in archivio con un po' di problemi legati a dividi di balneazione, alla realizzazione imminente di un nuovo impianto di depurazione, ma di tutta una serie di politiche di natura ambientale che per un comune costiero non possono essere tralasciate, anzi rappresentano la priorità. Sicuramente, noi come sapete abbiamo approvato in consiglio comunale finalmente, diciamo, l'iter definitivo per la costruzione di questo depuratore, finanziamento è stato concesso, sicuramente sarà uno strumento che ci permetterà di avere, di dormire sonni più tranquilli per il futuro. Ma nel frattempo bisogna comunque fare in modo che Alba Adriatica non torni alle cronache nazionali e internazionali solo ed esclusivamente perché si fanno 4-5 ordinanze di divieto di balneazione, perché penso che abbiamo bisogno di tutto meno che di questo. in tal senso io noto comunque sempre un ritardo nel fare le cose di questa amministrazione, è vero che io sono all'opposizione e faccio il mio gioco, ognuno tira acqua al suo mulino, ma io lo faccio per il paese di Alba Adriatica, non è che lo sto facendo per me stesso. E allora dico, quando ci troviamo di fronte a due stagioni di questo genere, molto rischiose, ma ci vogliamo mettere in mente che forse è il caso che ci lavoriamo un po' prima, oggi è il 2 dicembre mi pare, il 18 scade il termine ultimo della presentazione delle schede per la bandiera blu. Ora noi siamo riusciti a perdere la bandiera blu, la cosa mi ha fatto molto male, anche perché io ero nell'aggiunta che l'ha presa per la prima volta e non l'ha mai persa. E allora dico io, di fronte a questo, ci si può cominciare a lavorare a giugno, luglio, agosto, perché le schede da presentare per la richiesta della bandiera blu non è una cosetta, si devi mettere le crocette, ma rispettando dei parametri. Per la concessione della bandiera blu non c'è solo la valneabilità delle acque, ma una serie di servizi che il luogo offre per far sì che si arrivi a un punteggio che ti permette di avere la bandiera blu, che va dalla raccolta dei rifiuti, alla viabilità, alla pulizia, una serie di parametri. Allora, non ci si può ridurre il 2 dicembre, anche se il sindaco mi ha detto in Consiglio Comunale che ci stanno lavorando, che oggi mi pare che sono a Roma a parlare con il dottor Mazza della FEE e bandiera blu, ma a Roma non devi andarci a parlare perché lì non è che ti danno la bandiera blu perché sei simpatico, sei antipatico, perché sei biondo, perché sei moro, ma ti danno la bandiera blu se presenti le schede e rispetti i parametri. Quindi lavorate su questo, ma io ad oggi so che nell'ufficio tecnico ancora nessuno sa chi deve fare, chi deve riempire questi moduli, chi deve presentare queste schede e questo è un ritardo che sicuramente ci penalizzerà. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio perché Albadriati è il mio paese e quindi io spero che quest'anno la bandiera blu ci sia riassegnata di nuovo, ma questa amministrazione sta facendo una serie di butade politiche riguardo a questo aspetto proprio dell'ambiente. Non posso non ricordare che nell'estate 2013 siamo andati su tutti i telegiornali nazionali perché un consigliere dichiarò che il 40% delle abitazioni di Alba erano allacciati abusivamente, senza un criterio, senza dati, senza niente. Dopodiché abbiamo approvato in consiglio comunale il regolamento delle acque bianche. Subito dopo l'amministrazione ha provveduto a fare un'ordinanza per la quale entro il 30 aprile bisognava che tutti si mettessero in regola. 30 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, sette mesi. In sette mesi chiedo ufficialmente, anche se gliel'ho chiesto in consiglio, ma io le risposte non ce le ho. Lì è stato detto che vengono effettuati dei controlli. Devono essere fatti dei controlli. Dei controlli in questo momento a campione, una volta a settimana. Io non ho. Mi dovrebbero dire quali, quanti ne hanno fatti e quali sono i risultati. A oggi non ci è dato sapere. Io sono un amministratore, io non so niente, ma molto probabilmente una cosa è fare la buttata politica, una cosa è poi lavorarci. Io non vedo risultati, mi diano spiegazioni in tal senso. È altrettanto vero comunque che questo è un problema storico di Alba Dinatica e non solo, relativamente a tutta una serie di commissioni, di allacci, figli ovviamente di un'urbanistica di 30 anni fa, ovviamente insomma un punto di stop per ripartire andava comunque. E l'abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo votato con l'amministrazione il regolamento delle acque bianche e sono stato anche felice di vedere che il sindaco ha fatto una ordinanza affinché tutti si potessero mettere in regola. Ma una volta che hai fatto l'ordinanza, scaduto l'ordinanza, vuoi cominciare a fare i controlli, altrimenti lascia il tempo che trova, possiamo fare 100 ordinanze, ma se poi non andiamo a verificare che le ordinanze siano state rispettate, è che le abbiamo fatte a fare queste ordinanze. Pensiamo per il fatto stesso che ci sia l'ordinanza e che la gente si metta a norma di sicuro. Sicuramente qualcuno che ha un senso civico lo fa, ma ce ne sono tanti che non lo fanno. Ma è altrettanto vero e poi alcune verifiche lo hanno dimostrato che c'è gente che è inconsapevole anche di non essere allacciata nella maniera regolare, perché i vecchi sistemi non erano quelli attuali. Ma è venuto il dubbio anche a me per casa mia, perché io ho visto un tubo della grondaia che andava sotto al pavimento del mio giardino, mi è venuto il dubbio, dico Dio, poi sono andato a vedere, invece avevano fatto il canalino di scolo che lo porta in strada, ma il dubbio mi è venuto, perché comunque la mia casa l'ho acquistata nell'84, ma era datata di altri 10-12 anni prima, quindi questo dubbio ce l'hai. E quindi è giusto che tu dia il tempo alla gente di mettersi in regola, ma poi devi fare i controlli, altrimenti hai solo perso tempo. Restiamo su dinamiche, tematiche che investono nel litorale. È notizia di questi giorni che è stato, è scaduto credo la scorsa settimana il bando per l'incarico della progettazione della nuova zona, zona barche. Elemento definito dall'amministrazione qualificante per andare a riqualificare un'area sul litorale dove c'è dedicato alla piccola pesca. Il suo giudizio qual è su questo intervento? Allora, io sono contrario, parto da questo. E vi dico perché, perché sarebbe troppo semplice se sono contrario. Ah, non vuoi far pescare? No. Allora, sono contrario per una serie di motivi. Innanzitutto questa zona insiste nella zona naturalistica più bella del litorale di Alba. E noi, per capirci esatto, noi andremo ad ipotecare il futuro di questa zona. Per che cosa? La domanda. Qualcuno mi potrà dire, sì ma il piano spiaggia, la prevede lì, il piano spiaggia. È una pianificazione in ogni caso comunque. È una pianificazione che può essere modificata. Certamente, perché io il mio territorio lo conosco, quindi devo intervenire. Perché dico questo? Quella, come dicevo, è la zona naturalistica e turisticamente forse più bella del nostro litorale. Ipotecare il futuro di questa zona, secondo me, è pericoloso. Vi dico perché. Perché la pesca è un settore in forte decadenza. Voi sapete, non so se sia al corrente, anche perché di Tortoreto, dovete sapere, da voi è ancora più forte questa, come dire, questa presenza. Ad Alba Adriatica negli anni 70-80 avevamo 4-500 addetti alla pesca. Oggi sono poche unità, ma veramente poche unità. Che comunque vivono di questo settore, ci campano le famiglie. Ad Alba ci sono sei barche, non è che ce ne sono 45-56. Queste sei barche, tra le altre cose, quella pesca estiva che si dovrebbe poi svolgere lì, non è la loro attività prevalente, perché la loro attività prevalente è quella di Pongolare. È un di più, per l'amore di Dio. Tutto fa brodo in una famiglia che... Ma io sono convinto che noi andremo a spendere soldi e probabilmente a nuocere a questi operatori. Perché dico questo? Perché oggi loro si mettono le retine, le nasse, noi che siamo del mare conosciamo questi termini tecnici, si prendono un po' di pesce, se lo vendono ai turisti e arrotondano quello che è un po', arrotondano le loro entrate familiari. Cosa accadrebbe se noi andassimo ad approvare questo? Che molto probabilmente li metteremo in grossa difficoltà. Perché li metteremo in grossa difficoltà? Vi dico subito perché. Perché il piano spiaggia prevede che le strutture vengano concesse gratuitamente dal comune, ma le utenze le pagano coloro che gestiscono. Allora voi pensate, dal momento in cui lì si comincia a svolgere un'attività di commercio a tutti gli effetti, si devono adeguare fiscalmente da un punto di vista igienico-sanitario, portare le fogne lì con tutto quello che ne consegue. Io sono convinto che se oggi questi pescatori qualcosa portano a casa, successivamente probabilmente non porteranno a casa nulla. Quindi questo perché lo dico? Perché stiamo parlando di un'opera quasi faraonica, quando di fatti stiamo facendo un intervento che a mio avviso non è così necessario. Noi spendiamo 100.000 euro per quella zona, più 15.000 di progettazione. Allora che io non capisco perché si debba esternalizzare quando in comune abbiamo delle figure professionali. Cioè io non lo so, ma io penso che, vabbè non voglio dire io, ma un qualsiasi diplomato geometra è in grado insomma di presentare un progetto. Facciamo così, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci ritroviamo tra qualche istante per proseguire la nostra chiacchierata. Perfetto. Di nuovo assieme con 45 giri con Nicolino Colonnelli, prima della pubblicità stavamo trattando il tema legato alla progettualità che investe la nuova zona bar, che l'amministrazione parla della volontà di riqualificare quell'area sotto vari punti di vista e soprattutto perché sul tappeto, sul tavolo c'è un finanziamento che arriva dal GAC, il cosiddetto gruppo di azioni costiere. Guardi, riqualificare, secondo me quella non è una zona da riqualificare, tutt'al più è una zona da tenere pulita, non è che ci sia da riqualificare chissà che. Per quanto riguarda il finanziamento, ecco qualcuno mi ha detto ma ci sono sti soldi a disposizione, visto che sono in gran parte finanziati, prendiamoli. Non è il modo di amministrare questo o di governare, perché se i soldi parte sono del comune e comunque dei cittadini, parte di finanziamento pubblico e comunque vengono dai cittadini perché non è che quelli sono cresciuti sulle piante quei soldi. Allora non è perché c'è un progetto che io devo fare per forza, cioè c'è un finanziamento che devo fare per forza un progetto se non ne ho bisogno. Faccio un esempio, se ci fosse un finanziamento per una seggiovia, anche al 100%. Io non è che i Tortoreto e Alba si mettono d'accordo, facciamo una seggiovia che parte da Tortoreto Ald per Alba Adriari, arriva Alba Adriari e Tortoreto Lido. Che senso ha? Cioè quel finanziamento lo fai chiedere a Pietracamela, a Prati di Tivo. Non è giustificabile un progetto perché c'è il finanziamento, questo non è di un amministratore che ha rispetto del denaro pubblico. Io sono convinto, per le motivazioni che dicevo prima, che sarà un intervento che ci costerà e non porterà nessun vantaggio alla comunità e nemmeno a coloro che in quel settore ci lavorano. Come ho detto prima, molto probabilmente queste persone si troveranno magari ad avere una serie di responsabilità fiscali che oggi non hanno. E' il mio punto di vista, poi lo affronteremo anche meglio, ma poi una domanda, qui si è parlato in alcuni giornali, ho sentito dire di non so quanti posti di lavoro può creare, ma siamo seri anche su questo, no? Quali posti di lavoro può creare? Certo, lo dicevamo in premessa relativamente a questa tematica, si tratta di pochi operatori che sono rimasti, che operano il gioco di parole nella piccola pesca e rappresentano poi una caratteristica, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, insomma. Certo, tanto rispetto per queste persone che vivono da sempre di questo, però come dicevo la loro attività principale non è questa, è quella delle vongolari, perché se dovessero vivere di quello probabilmente non arriverebbero a fine mese. È un di più e ci sta, fino ad oggi è una cosa che è andata bene, adesso normarla in questo modo a mio avviso si rischia proprio di creare un documento. Comunque questo è il mio punto di vista, sempre opinabile. Dal mare all'istruzione, altra tematica molto stringente all'albadiatica riguarda il discorso scuole. Un anno fa di questi periodi parlavamo dell'inagibilità parziale, che è ancora tale di un'ala della scuola media di via Duca d'Aosta. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha comunicato l'arrivo di un finanziamento di 540 mila euro per quanto concerne la scuola materna, invece per andare a sistemare l'altra zona si è partecipato, si sta partecipando a un bando. Come se ne esce fuori da questo aspetto, da questa situazione? Anche questa è una storia nata male per una serie di, innanzitutto, di mancanza di comunicazione. Allora, il problema delle scuole non è che la scuola di Alba è inagibile e le altre scuole di tutto il mondo sono agibili. Dopo il decreto ministeriale del 2008, con la circolare applicativa del febbraio 2009, che prevedeva nuove normative antisismiche, tutte le scuole d'Italia, tutte, nessuna esclusa, sono a rischio sismico, compresa casa tua, compresa casa mia. Questo che significa? Che dobbiamo chiudere tutte le scuole? No. Però il governo ha detto, signori, fate una ricognizione della situazione dei vostri stabili comunali, scuole soprattutto. Questa cosa fu presa a cuore dal sindaco precedente, Giovannelli, che nel dicembre 2012 incaricò l'ingegner Foschi di fare le verifiche sismiche sulle scuole, spendendo 100 mila euro, stornandoli da un altro capitolo di bilancio, perché era importante farlo. Il risultato è stato che c'è una deficienza statica in una parte dell'edificio per cui è nato tutto questo polverone. Adesso la scuola di Tortoreto, non è che la scuola di Tortoreto sta meglio, è che non hanno fatto la verifica. Forse starà anche peggio dal mio punto di vista. Io non lo so, adesso ho fatto Tortoreto, ma potevo dire Martinsicuro, voglio dire, o Teramo stessa. Non è che stanno meglio, è che non hanno fatto le verifiche, per cui questa deficienza nessuno la conosce. Allora, ad un sindaco che vuole ottemperare e rispettare le regole, vengono messi dei bastoni tra le ruote per certi versi, anche se va detto che poi al 31 marzo 2013 si poteva partecipare a un bando della regione Abruzzo con i fondi FAS solo per i comuni che avevano fatto le verifiche. Ecco perché poi ha pagato quello che ha fatto il sindaco Giovannelli. Perché poi in data 31 marzo scadeva questa richiesta. Tant'è vero che l'amministrazione Giovannelli in data 4 febbraio presenta il progetto definitivo per l'adeguamento della scuola. E quel contributo che oggi è arrivato di 540 mila euro e che leggevo sul giornale l'altro ieri è stato ripresentato perché mancava, non era stato presentato bene. Allora io dico, quando non vuoi fare i complimenti all'amministrazione precedente, almeno stai zitto perché fai più bella figura. Lì non mancava niente. Adesso, anche perché se fosse mancato qualcosa, probabilmente la domanda sarebbe stata cassata. Certamente. Allora, probabilmente, presumo, adesso dico perché io sono stato all'ufficio tecnico e non sanno nulla di quello che mancava. Forse il tecnico che l'ha presentato si è dimenticato di mettere una spuntatura, una X in una casella, ma se fosse stato un problema serio io avrei dovuto vedere qualche atto pubblico di correzione negli uffici comunali. Quindi diciamo una cosa. Allora, l'amministrazione precedente ha intercettato questo finanziamento perché ha seguito le normative, ha fatto fare le verifiche sismiche e poteva partecipare a questo bando. I comuni che non avevano fatto le verifiche sismiche non potevano partecipare a questo bando. Questo per chiarire, sgombrare. Poi adesso il nuovo bando, invece quello lì per cui è stato presentato il progetto in poco tempo, verificheremo quello che c'è sicuramente. Se ci arriva il finanziamento siamo felici. Certo, anche perché in questo momento l'attività didattica è molto compresa, insomma ci sono delle problematiche. Però anche lì, vede, io non do sempre la colpa agli amministratori che siano essi adesso miei antagonisti o precedenti. Cioè un governo, quando promulga una legge, deve fare in modo pure che poi ci sia la capacità attuativa. Cioè tu mi fai fare delle verifiche sismiche, poi in base a queste verifiche sismiche io sono costretto a chiudere un'aula della scuola, un'aula o due aule, un'ala intera. Chi non le fa rimane come stava prima. Cioè quindi anche è un gatto che si morde la coda. Poi i cittadini se la prendono sempre con il sindaco, l'amministrazione, con i referenti locali. Ma il problema è a monte. E chi fa le leggi poi non ti mette in condizione una volta che ti sei adeguato tipo, ho fatto queste verifiche, adesso mi dai i soldi. Cioè io parlo pane al pane e il vino al vino. Ho fatto le verifiche. Ci sono queste problematiche. Siccome ho temperato a ciò che mi hai detto, adesso mi dai i soldi per metterle a posto. Se no, i cittadini da me si vengono a lamentare e i paesi limitrofi no, perché comunque, oh vedi, Tortoreto, San Benedetto, Giuliano, tutta a posto. Le scuole italiane al 90%, lo va dicendo anche Renzi, sono sotto il punto di vista sismico a rischio. Anche perché parliamo di strutture che sono, tranne i rarissimi casi, molto datate. Ma anche quelle fatte per dire nel 2005, non rispondono più ai criteri. Quindi di che stiamo parlando? Cioè voglio dire ci vuole anche buonsenso e non creare soprattutto da parte degli amministratori allarmismo ingiustificato. Dalle scuole alla politica ad Alba Adriatica queste settimane, in questi ultimi giorni ovviamente molte delle attenzioni nel centro-sinistra e nel Partito Democratico sono focalizzate al congresso di sezione. Ricordiamo sezione commissariata all'indomani delle elezioni del 2013, in cui quell'area politica andò frazionata, spaccata. Situazione che riaffiora sempre in quell'area politica, ad anni si vivono divisioni, contrasti anche sul piano personale. Sì, e questo dispiace, anche perché sono posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la politica. Io una cosa non capisco del Partito Provinciale. Se tu segretario hai commissariato un circolo, si parte dal presupposto che il segretario o nel migliore dei casi è stato poco attento nella gestione o nel peggiore dei casi lo ritieni responsabile, altrimenti non commissario. Però dopo io che mi trovo, mi trovo a livello provinciale che quelle persone per le quali il Partito è stato commissariato si ritrovano comunque ad avere un ruolo nel Partito. Io in una riunione del Partito di una settimana fa circa ho messo l'accento su queste cose, ho messo l'accento sulla disparità di trattamento per persone che si trovano nella stessa situazione e faccio l'esempio di Giuseppe Di Luca che è stato espulso mentre ci sono situazioni analoghe o peggiori e non si è preso nessun tipo di provvedimento. Questo attiene la Commissione regionale. Ma a livello provinciale voglio dire ci sono situazioni tipo Civitella dove due persone sono state espulse per aver partecipato da una lista guidata da un gruppo di centrodestra. E ci può stare, parlo di due amici miei, parlo di Mario Tulini e di Gabriele Marcellini, ma c'è una terza persona che era candidata con loro ed è ancora tesserata. Allora qual era la discriminante? Che questi sono stati eletti e quindi sono stati espulsi e quello non è stato eletto e quindi non è espulso. Oppure mi ritrovo un ex assessore di una giunta di centrodestra di Civitella che oggi sta nella Commissione di Garanzia Provinciale. Di che cosa stiamo parlando? Cioè non si possono usare due pesi e due misure. Non si possono punire delle persone perché non hanno fatto la scelta di seguire il candidato che indicava la segreteria. Perché questi sono metodi che la DC e il PC non hanno mai usato. Questi probabilmente sono metodi che attengono paesi dove non esiste la democrazia. E poi stranamente si emarginano proprio quelle persone che poi dimostrano sul territorio di avere consensi. Allora il consenso, siccome io penso che non si costruisca in laboratorio, ma il consenso è un qualcosa che le figure politiche, professionali e sociali si guadagnano sul territorio grazie alla loro vita, grazie al loro rapporto interpersonale col territorio, grazie alle loro capacità. Perché non si costruisce diversamente. Allora io dico a questo partito, sono 18 mesi che il partito di Alba Adriatica è commissariato. Io ho sempre parlato a titolo di Alba in comune. Non ho mai parlato come PD. Ma lei è tesserato? Sono tesserato. Da sempre, anzi mi avevano accusato di non essere stato tesserato nel 2012. Dicevo, come ti fai? Poi andando a verificare gli atti, io nel 2012 ero tesserato. Avevo saltato il 2011 perché mi trovavo all'estero. Vabbè, ma io sono sempre stato tesserato. Ho sempre fatto politica attiva con ruoli istituzionali prima, dopodiché ho continuato a fare vita politica non avendo incarichi. Ma perché credo in questo percorso politico? Non è necessario avere un incarico per fare politica. Allora io dico di fronte a queste cose, voi ci avete tenuto i commissariati 18 mesi, la motivazione? Perché dovete trovare la democrazia prevede che in una situazione di posizioni diverse si va a votare. L'anno scorso dovevamo votare, quando si votò contestualmente per la segreteria provinciale, non ci fecero votare. Io lo dico chiaro e tolto, non è che faccio giri di parole. Perché il commissario locale era di parte e siccome sapeva che la componente che faceva riferimento al gruppo consigliare, cioè a me Giuliano Vallese, aveva i numeri per vincere non ci fecero votare. E questa cosa è andata avanti fino ad oggi. Abbiamo dovuto fare articoli sui giornali sicuramente, perché ci mettono in condizione. Adesso dai numeri che abbiamo, diciamo la componente che fa riferimento a noi e al nostro candidato segretario Tomolati dovrebbe avere ancora un vantaggio non molto ampio, però ce l'abbiamo. Sono nate alcune altre problematiche che avete letto sui giornali, i tesseramenti. Allora io dico, lo statuto prevede che uno si possa tesserare in un circolo per residenza, studio, lavoro o ambiente. Che significa il circolo ambiente? Che tu sei di tortoreto, però vivi di più ad alba triatica per i rapporti sociali. Quindi decidi di iscriverti al circolo di alba triatica e questo è pacifico. Non è detto perché sono di tortoreto e devo fare per forza la tessera al circolo di tortoreto quando io la vita di tortoreto non la vivo giornalmente. Questo lo prevede lo statuto. E l'esempio è proprio calzante sul nostro candidato segretario Giovanni Tomolati. Che vive a Corropoli, vero? Sì, alla casa Corropoli. Lui è di alba triatica, nato, cresciuto a Villafiore, ha fatto il consigliere comunale fino all'anno scorso ad alba triatica, tesserato da sempre nel circolo di alba triatica. Allora, qual è la discriminante? Che questo qui la sera va a dormire a Corropoli? Ma di che stiamo parlando? Perché uno magari ha comprato la casa a Corropoli perché i soldi che avevano erano sufficienti per comprare l'appartenente a Corropoli e non ad alba triatica, fa questa scelta e quindi non sei più cittadino di alba triatica. Ma ci sono tante giovani coppie di alba triatica che... Tortoreto alto per dire, ce ne sono tante. Ma voglio dire, ma la vita la svolgono comunque ad alba triatica. E allora, che stiamo a guardare? A questi cavilli dobbiamo fare un congresso di partito perché questo partito risollevi la testa o dobbiamo fare un congresso di partito per ridare di nuovo il partito in mano a chi il partito non importa? Perché io posso... l'altra componente, ho visto che diciamo che sono due tesseramenti gonfiati, diamolo per scontato, perché bene o male, quando ci si deve confrontare... Qui ci si conta, no? Ci si conta, perché fino a quando la democrazia non inventa un metodo diverso da quello del voto, dobbiamo farci conti. Diciamo che sono gonfiati, però un conto è tesserare degli amici magari che si occupano proprio di politica, poco di politica, però hanno stima di quello che fai tu e ti fanno la testa. Un conto è fare la tessera a persone che sono vent'anni, che sputa sentenze e cattiverie nei confronti di questo partito. Oggi alcuni di questi non hanno fatto la tessera perché sarebbe stato... però l'hanno fatto a fare o alla moglie o al marito. Allora di che stiamo parlando? Cioè di che cosa stiamo parlando? Vogliamo veramente ricostruire? Io l'ho detto al segretario provinciale, ma voi volete un partito ad Alba Adriatica che guardi verso il futuro, con dei giovani che sono interessati? Tu sicuramente hai seguito un po' la mia campagna elettorale, hai visto il mio gruppo, hai visto che ci sono tantissimi giovani, tantissime donne, che me lo dicono da tempo, ma lasciamo perdere il PD, facciamoci un'associazione e tanto possiamo operare sul territorio tranquillamente bene. Non hanno tutti i torti se i messaggi che arrivano dalla politica sono questi. Io vorrei vedere Renzi ad affrontare questa situazione qui e quale potrebbe essere il suo giudizio. Io non credo che questo sia il partito che lui immagina. Poi non pretendo che Alba sia unica nel suo genere, perché in tutta Italia ce ne saranno tante. No, ci sono delle dinamiche. È altrettanto vero che questa frattura, lo dicevamo in precedenza, che affonda le sue radici negli anni, almeno oltre dieci anni si ripropone ad intervalli ciclici. Anche l'ultima campagna elettorale per le comunali è stata emblematica, insomma, con frazionamento nell'area politica di riferimento che probabilmente ha dato una spinta ulteriore a chi in questo momento amministra questo comune. Allora, ci può stare anche... Allora, cosa farei io? Se io con il mio competitor all'interno del mio partito, non vado d'accordo, non trovo la sintesi, gli faccio guerra nel partito, guerra tra virgolette, e cerco di affermare le mie posizioni nel partito, però io non vado a fare una lista con una componente totalmente diversa, cosa che io non mai avrei. La mia vita politica è coerente, parla chiaro. DC mi hanno cambiato in testa e mi ci hanno messo PP, poi mi ci hanno messo Margherita e adesso PD, ma io non ho mai cambiato partito. E mai ho fatto una lista con altre forze politiche contro qualcuno del mio partito che per qualche motivo non mi aveva voluto dentro. Allora io dico, la storia di un paese insegna anche questo, insegna che ci sono persone responsabili che comunque non creano un documento al proprio gruppo, e ci sono persone che pur di far male a una persona del partito fanno male a tutto il partito e a tutta la città. Queste persone ciclicamente si ripresentano. Allora il problema è che io, adesso quali sono le problematiche di carattere personale che hanno avuto, tra l'altro non con me, perché io con queste persone non ho nulla, non ho mai avuto nulla personalmente. Cioè le grandi critiche arrivano nei confronti, facciamo il nome di Peppino Di Luca, ma anche di Franchino Giovanni. Cioè poi io voglio dire, allora qual è il mio peccato originale? Di essere amico di queste persone? Cioè ditemelo, che se voi mi fate una lista per farmi perdere, perché sono amico di Peppino, cioè non stiamo più parlando di politica, non so se mi... io penso che la gente che mi sta ascoltando convenga con me, la politica è più nobile. Se la politica è questa, il risultato è poi 37% di votanti che vanno a votare in Emilia Romagna. La gente scappa dalla politica. E come mi dicono questi giovani che fanno parte del mio gruppo, facciamoci un'associazione che forse è meglio. Praticamente il nostro tempo a disposizione è finito, ovviamente bisognerà fare sintesi il 14 dicembre. Insomma ridare, probabilmente, e le chiedo un flash immediato, insomma ridare anche visibilità, in questi 18 mesi il Partito Democratico ad Alba, di fatti, insomma non ha mai assunto una posizione perché in realtà non c'è. No, l'opposizione si chiamava Nicolino Colonnelli. Cioè io dico anche quelli che hanno fatto la lista, diciamo, Progetto per Alba, dico il nome perché era una lista di sinistra, no? Hai perso le elezioni, ma il giorno dopo tu sei chiamato come me a rappresentare quel gruppo di persone e far presente al territorio quali sono le criticità di questa amministrazione. Ma può essere che in un anno e mezzo non hanno trovato una cosa da dire in questo paese? Non si sono espressi su nulla. Allora mi viene il dubbio che questo Progetto per Alba, che è nato nel marzo 2013, è finito il 28 maggio 2013, fosse un progetto per me, per colui che l'aveva fatto. Quello era. Il progetto è nato ed è finito in quell'arco. Quindi non si può dare credito a chi poi... Cioè se io oggi ho perso, cosa mi direbbero i miei elettori se io in Consiglio Comunale non facessi l'opposizione, non prendessi posizione? Io ti ho eletto per governare, ma anche per riaffermare i miei diritti nei confronti di chi governa. Questo è il ruolo politico. Grazie a Nicolino Colonelli, grazie per la sua partecipazione a 45 giri. Il nostro contenitore finisce qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento. Come ti consedo domani. Ciao! Ciao! Grazie a tutti